Come si fa a sapere se il melone è a posto? Se lo state raccogliendo voi, quando incomincia a seccare il picciolo è a posto. Altra cosa invece, quando andate al fruttivendolo, lo girate e gli annusate il sedere. Deve sapere proprio di melone. Deve sapere il giusto, non troppo, perché altrimenti vuol dire che è troppo avanti di mangiarlo proprio il giorno stesso. Ti faccio vedere meglio un melone a posto. La prima prova che facciamo è dare un'occhiata al colore. Andiamo a vedere, prima di annusargli il sedere, vedi che il picciolo sta incominciando un minimo a seccare? Questo qua è il segno che va, dopo, no, questo va a profuma, anzi facciamo così, guarda. Ne tagliamo uno, no, si sente, si sente, facciamo una prova. Poteva stare magari anche un giorno ancora, però, no, il problema qual è che dopo se tu lo dai da portare a casa, magari non viene mangiato il giorno stesso, capito? Questo qua lo lascio in frigo un giorno e diventa il top.